Il più cordiale saluto da etg edizione marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di etv canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it In apertura di questa edizione il punto come oramai da quasi tre settimane sulla guerra in Ucraina, gli ultimi aggiornamenti cercando parole di pace, Zelensky al Bundestag quindi verso il Parlamento tedesco, ad ogni bomba si alza un muro con l'Unione Europea, queste le dure parole del Presidente ucraino. Intanto purtroppo i bombardamenti proseguono un missile su un palazzo a Kiev, secondo gli 007 inglesi però l'invasione si sarebbe bloccata, anche questo potrebbe essere un elemento importante. Purtroppo però il mondo piange dopo il raid sul teatro rifugio a Mariupol, un teatro abbattuto, già 30 persone, 130 in totale uscite vive anche se si teme che sotto le macerie ci siano tante donne e bambini. L'Ucraina sta avendo anche un impatto delle conseguenze dal punto di vista umanitario oppure sulla regione Marche, abbiamo nuovi dati ufficiali, sono in 2230 tra donne e bambini finora arrivati nelle Marche, il 95% sono attualmente ospitati da parenti e amici. La rete dunque della solidarietà si sta muovendo su questo fronte, ricordiamo anche la possibilità messa in campo dalla regione Marche, le casette del terremoto pronte ad essere utilizzate per ospitare i profughi ucraini, nel principio che chi conosce la sofferenza è spesso il primo ad aiutare. Sul tema dell'aiuto andiamo a Falconara per raccontare una bella storia. Sono 12 persone e la cosa più importante è stato il ricongiungimento familiare che è avvenuto a Gracovia. Abbiamo dato la possibilità a queste persone di fuggire da Suomi, che è la città loro natale, dove hanno lasciato la mamma, una ragazza ha lasciato la mamma e il fratello. 3280 chilometri, 33 ore di viaggio, tranne a ritorno. La missione di Luciano, Alberto, Umberto e Pasquale aveva dentro lo spirito umanitario, la voglia di fare qualcosa per il prossimo, di non rimanere in ermi di fronte al dramma della guerra. La delegazione è partita da Falconara, venerdì 11 marzo alle 11 con un carico di 70 metri cubi, tra medicinali, generi alimentari e abbigliamento, raccolti grazie a Croce Gialla, Avuls, Il Rotary e altri amici. Alle 2 di notte la sossa ad Auschwitz. Dopo 4 ore arrivo a Schemlis, la cittadina polacca nella quale è stato allestito un grande punto di accoglienza nei pressi di un centro commerciale. Per prima cosa hanno cercato i presidi ospedalieri, ma non c'erano strutture preposte e quindi si sono dovuti spostare fino al confine con l'Ucraina, consegnando ai sanitari. Non esiste nessuna organizzazione governativa ad accogliere un popolo in fuga. L'Europa Unita in quel luogo di sofferenza non c'è, non l'abbiamo vista. A Schemlis sono salite su furgoncino Avuls le prime 6 persone, alla stazione ferroviaria successivamente altre 2 persone anziane, la figlia e la loro nipote di 11 anni, che li hanno condotti infine verso Cracovia per caricare un'altra mamma con il bimbo di 5 anni. I rifugiati ucraini sono stati sottoposti a tampone alle 19 di sabato, la partenza verso Falconara. Otto sono ospitate dalla comunità ucraina, quindi di Falconara, che la divise in due o tre loro famiglie in Trancona, Osimo e mi sembra Camerano. Quattro invece di queste persone, quindi due nonni con la figlia e il nipotino, al momento sono ospitati in una struttura messa a disposizione dal comune di Falconara e da domani mattina entreranno in una casa sempre qui a Falconara, che ci ha messo a disposizione da un nostro amico di Iesi. Il desiderio di continuare a vivere questa amicizia ha fatto sì di richiamare questi profughi e dire di cosa avete bisogno. Mi hanno detto semplicemente di un letto a castello. Il letto a castello è stato consegnato con dei materassi nuovi, proprio per dire ecco, noi siamo così. Gli occhi dei bambini sono quelli che ti hanno proprio colpito in piedi, quella fucilata che ti arriva ma ti rimane dentro. Mio nipote di nove anni mi ha telefonato e mi ha detto nonno, sei un grande. Queste sono le parole delle Marche Solidali. Cambiamo argomento, parliamo ora di una bella notizia. La notizia sarà marchigiana, la capitale italiana della cultura 2024. Nella Terna erano rimaste anche Pesaro e Ascoli, la spuntata proprio Pesaro. Capitale italiana della cultura 2024, la città di Pesaro. Vogliamo dedicare questa vittoria alla città di Kharkiv, in questo momento sotto le bombe e che è come noi città della musica Unesco. Questa è una foglia di ginkgo biloba, è un po' l'albero al quale si è ispirato tutto il nostro dossier, la natura della cultura, che è l'albero della pace. È sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima, per questo è stato definito l'albero della pace. La spunta Pesaro come capitale italiana della cultura 2024, battendo al photo finish Ascoli Piceno, nel derby tutto marchigiano, che ha visto dieci città arrivare ad un passo dal traguardo. Nelle motivazioni della Commissione, che ha scelto Pesaro all'unanimità, un'eccellente candidatura basata su un progetto culturale, che valorizzando un territorio già straordinariamente ricco di testimonianze storiche e preziosità paesaggistiche e ambientali, propone azioni concrete per integrazione, innovazione e sviluppo socio-economico. Nelle dediche dell'amministrazione, un pensiero per Alex Eusepi, anima dell'associazionismo pesarese, scomparso in un incidente stradale a gennaio, e Daniele Tagliolini, già presidente della provincia di Pesaro Urbino, vinto da un male a 44 anni. Daniele Tagliolini, che si è lasciato pochi giorni fa, con cui abbiamo sempre condiviso anche la visione di una provincia unita, di una provincia che potesse farsi forza da questo punto di vista. Sicuramente ad Alex Eusepi, quindi dalla provincia alla dimensione del quartiere, una figura che ci ha creduto molto a partire dalla sfida del quartiere capoluogo e della cultura. Nessun passo indietro per Ascoli Piceno, che riconferma il senso della candidatura, la cultura che muove le montagne. Crediamo fortemente ancora nel merito, quindi questo è un progetto culturale per cercare non solo di muovere le montagne, ma anche di riabitare tutte le aree interne. Grazie a Pesaro per aver portato nelle Marche un riconoscimento così prestigioso, ma anche ad Ascoli Piceno per la grande mole di lavoro espressa. Così su Facebook il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Parliamo ora di un importante appuntamento che la nostra emittente seguirà. Questo pomeriggio in diretta sulla pagina Facebook di ETV, ora inquadrata, i 30 anni dell'emergenza. Il numero 118 compie 30 anni, la presidenza dell'Assemblea Legislativa delle Marche ha organizzato un incontro con tante associazioni, con coloro che lavorano quotidianamente nell'emergenza. Ecco la presentazione. 30 anni del 118, ma soprattutto per guardare alla futuro. Da dove nasce questa scelta, questa iniziativa? Nasce da una richiesta di molte associazioni di volontariato di cui si sono fatte portavoce i componenti della Commissione Sanità, Commissione Consigliere regionale della Sanità, in particolar modo la Presidente Leonardi e la Vice Presidente Simona Lupini, che mi hanno rappresentato l'opportunità di festeggiare anche nelle Marche i 30 anni del 118, della pronta emergenza, del pronto soccorso, del volontariato, delle tante associazioni che prestano ogni giorno il proprio servizio a sostegno e tutela della vita, salvaguardia della vita stessa in condizioni di difficoltà e di irriperabilità. Sarà un pomeriggio di lavoro, ma anche di prospettive, immagino. Io mi auguro che emerga quello che innanzitutto è stato fatto in questi due anni, cioè la capacità di cambiare completamente pelle da parte di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, da parte dei servizi sociali, da parte di noi come comunità di fronte a un evento impensabile come è stata la pandemia del coronavirus, ma soprattutto anche aver capito quanto aver dato fondo alle possibilità dell'emergenza del 118 possa costituire un punto di svolta. Non si può ragionare per il 118 in termini di impatto e di stabilità, di persone persone che non possono essere assunti in maniera stabile perché ci sono problemi finanziari. Non si può ragionare con territori che ancora non sono coperti da 118, lo sono non in maniera completa nell'arco delle H24, perché sarebbe davvero in qualche modo ferire completamente l'enorme sforzo che è stato fatto sempre nei 30 anni, ma soprattutto nell'emergenza storica e davvero straordinaria della pandemia. Se noi non consideriamo la tutela del sociale come un'esigenza ineludibile alla pari del lavoro, alla pari della crescita e della qualità della nostra vita personale, poniamo un ostacolo davvero egoistico e chiudiamo le porte al nostro futuro. Una buona notizia prima di chiudere perché Gimbo Tamberi ha sciolto la riserva, ha deciso, parteciperà ai mondiali di Belgrado. Tamberi dunque ha detto sì ai mondiali indoor di Belgrado, ci sarà anche il campione olimpico del salto in alto che ha sciolto la riserva dopo la seduta tecnica al pala indoor di Ancona. Domenica sulla pedana della Stark Arena andrà alla ricerca delle medaglie mondiali. Andata a finire così, ci vediamo a Belgrado, ha detto, sui suoi seguitissimi canali social. Vi lascio alla sintesi della rassegna stampa di ETV. Vi ricordo che in questi giorni è in corso la rivoluzione in HD, in alta definizione della televisione italiana e quindi anche marchigiana. Se non doveste ricevere il nostro segnale televisivo di qui alle prossime ore, provate a risintonizzare, eventualmente potrebbe essere necessario l'acquisto di un piccolo decoder. Grazie, vi lascio alla rassegna stampa in sintesi di Buongiorno TV.